Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono rallentamenti nel tratto tra Calenzano e il Bibio per la variante di Valico e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla FIPILI fare attenzione per personale su strada segnalato tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est in direzione Firenze. Su raccordo Siena-Firenze per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Bargino e tra Badesse e Monterigioni. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 270. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!